Exoratics, oggi ho scelto per voi una super auto, stiamo parlando di Mercedes classe A 180, 1.013 cilindrata, 136 cavalli premium, bellissima in questa versione nera, super elegante, alimentazione benzina immatricolata a fine 2020, meno di 20.000 chilometri percorsi, trazione ovviamente anteriore per un consumo reale misto di 5.3 litri ogni 100 chilometri. Andiamo subito a scoprire il bagagliaio che parte da 340 litri, vediamolo insieme, è molto ben sagomato, abbiamo uno scalino che non è troppo ingombrante, la sua ghe di carico è abbastanza bassa, quindi sarà molto agevole caricare e scaricare i bagagli. Abbiamo la possibilità di abbattere le sedute posteriori singolarmente, possiamo abbattere la seduta centrale per avere un accesso diretto al bagagliaio. Abbattendo le sedute posteriori arriviamo addirittura a più di 1.100 litri di capienza. Andiamo a vedere velocemente anche gli interni, intanto vi faccio notare la bordatura cromata della finestratura che le dà proprio questo tocco di classe e guardate che meraviglia, gli interni che sono in pelle con attacchi isofix a entrambe le sedute esterne e posteriori e dettagli in rosso, così giusto per avere quel tocco in più di brio e di eleganza. Ma guardate che meraviglia la parte anteriore dell'abitacolo, lo sterzo è sportivo con una parte di grip laterale, abbiamo le cuciture a vista, anche qui dettagli cromati, guardate che meraviglia la plancia è essenziale ma molto di classe con un display enorme che va a unire il quadro strumenti e il display per la gestione dell'infotainment. Il cambio è manuale a sei rapporti e da questo praticissimo paddle possiamo gestire tutto il sistema multimediale, start and stop, insomma non vi resta che correre sul nostro sito. Se volete avere ulteriori dati tecnici correte su rattix.com per scoprire questa meraviglia e tantissime altre autovetture subito disponibili e in pronta consegna. Exo!